Casa Puglia 5 Stelle ha trasformato i programmatici, quello di creare un'agenda digitale improntata sullo sgruppo dei servizi online della città. L'amministrazione diventerà quindi anche digitale con importanti innovativi servizi per i cittadini. Dirette streaming delle eseguite del servizio comunale, carta di identità elettronica, creazione dello sportello online del cittadino, trasmissione via internet di servizi anagrafici e connessione a internet creata via le zone sempre più ampie del paese tramite una rete wifi, servizio comunale di raccolta del pc usati e di distribuzione nelle scuole e a chi ne faccia l'inchiesta. Siamo al servizio dei cittadini per questo qui ci amiamo. Siamo al servizio dei cittadini